Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Allora, nel video di oggi ho deciso di fare una cosa un po' diversa vorrei qua la Yankee Candle sta bruciando in particolare però ancora come vedete è la pezzi interi sto bruciando Turquoise Sky che mi sa molto di mare, molto di... è una cannella molto fresca, molto estiva appunto oggi la giornata non è particolarmente estiva però ancora sono le 8 di mattina quindi magari tra qualche ora si spera che il tempo migliori allora, oggi vi vado a fare il tag che ha fatto, credo l'abbia fatto anche Sara sì, sono abbastanza sicura che l'ha fatto sia Sara la ragazza di cui vi parlavo nel video ASMR precedente sia Valentina Roxl 2007 vi lascio giù il link e lo faccio verso il mio ASMR ovviamente il tag è il tag delle 100 domande che nessuno sa fare ma in realtà ho visto che non sono comunque 100 domande ma niente va bene lo stesso allora, vi lascio giù tutte le domande la numero uno dormi con l'armadio aperto o chiuso? ma di solito dormo con l'armadio chiuso però può capitare che una stella mi scordi e lo lasci aperto non fa nulla, ecco poi rubi shampoo e palsamo negli hotel e lasciando la stanza se sono di buona qualità sì, altrimenti se sono le solite saponette così non le vale la pena e lascio rubo sapete cosa prendo? le cuffie di la doccia perché quelle le trovo molto utili e gli altri viaggi comunque rubi è una parola un po' grossa perché comunque non mi ricordo che alla fine tu hai pagato per quel servizio e non li hai usati in quel preciso momento ma li userai dopo dormi con le lenzola dentro o fuori? allora non capisco cosa vuol dire questa domanda cosa significa? se dormi con le lenzola rimboccate? no se è questo no altrimenti non so la tua domanda ma hai rubato un segnale stradale? no è una cosa da rubare un po' strana tipo il film il set del not era quello che lui rubava il segnale stradale sì ti piacciono i post-it? sì non sono la mia cosa preferita però quando ero all'università li usavo ne usavano tantissimi perché è molto più facile memorizzare le cose scrivere tutto per ripassare e poi attaccavo questi fogliettini sulla pagina di riferimento tagli i cuponi e poi non li usi sì in passato ho fatto così c'è stato un periodo verso ottobre novembre l'anno scorso in cui tagliavo i cuponi non li usavo li usavo di tutto ho visto forse 2 euro diciamo che non è proprio perfetta come scienza questa di cuponi in Italia parlo perché non è rica comunque funziona molto di più i cuponi sono cumulabili quindi è molto diversa la situazione sicuramente preferire di essere attaccata da uno sciame di api o da un orso direi da un orso perché ho il terrore delle api ecco quindi un orso vuoi fare finta di essere morto però le api mi spaventano già poi per me non si è attaccata niente ecco e le lettigini no sorridi sempre nelle foto sempre costantemente c'era anche una mia vita un tempo fa diceva che avevo anche una posa per le foto sì che è una cosa che mi veniva naturale ecco no che effetto mi sposa ti proposto e qual è la cosa che ti irrita di più? se sentite l'umore il mio stomaco perché ormai qual è la cosa che ti irrita di più? ma direi l'indifferenza e si e la malvagità nelle persone in questo periodo ho capito tante cose ho capito che ci sono persone veramente malvagie cattive proprio dentro che non si che non si fanno scolugli soprattutto verso le serpettive siccome possono essere gli animali sì quello sì e continuare i passi mentre i bambini no no non penso quando faccio le scale a volte hai fatto la bambina con un scuolo aperto? sì una volta l'ho fatta ma una delle primissime volte che ero appunto in gita tipo 7-8 anni mi ricordo proprio che non sono riuscita a farla cioè la feghe stavo per sentirmi male poi per fortuna ho trovato un bagno vero e quindi mi sono mi sono salvata però penso che l'avrei fatta ecco e la cacca in un bosco no penso di aver fatto la cacca in un bosco no che io ricordi a scrivere ecco parli mai sempre sempre io parlo in continuazione soprattutto perché il momento ho la fissa per la zumba quindi la musica ce l'ho in testa io parlo ma mastichi penne e matita no forse quando ero più piccola ma adesso sono anni proprio che erano le mastiche ecco perché mi fa anche un po' schifo ecco qual è la misura del tuo letto è un letto una piazza però non è una piazza troppo stretta diciamo che è una piazza abbondante non so assolutamente come si come è definito ecco canzone della settimana canzone della settimana non so dire sempre qualcuna di zumba però il titolo non mi ricordo comunque si o altrimenti c'è una canzone che ho ascoltato una trattata che mi piace ma non so assolutamente chi è quindi secondo te i ragazzi stanno bene con il colore rosa e si secondo me il colore rosa sta bene a tutti non è un colore per forza da donne ecco però deve piacere chiaramente guardi ancora i corto animati assolutamente si guardo i simpson i griffin american dead bovs burger king of the hill tutti praticamente cioè tutti quelli che fattano su fox e compagnia bella mi piaceva tanto i miei preferiti direi griffin film peggiore che hai visto ne ho visto uno tipo penso un mese fa all'incirca che lo davano su sky ma un film così brutto veramente cioè proprio brutto non mi ricordo nemmeno il titolo se riesco a trovarlo ve lo scrivo da qualche parte o che sia una cosa importante comunque era un film tipo di azione spionaggio che a me non piace non lo stava guardando mio padre allora l'ho guardato anch'io e c'era Jennifer Lopez ma un film proprio brutto scontato banale in cui cioè Jennifer Lopez penso non recita nemmeno bene no se avessi un tesoro da non contenetore andresti a seppellirlo non lo so probabilmente un mondo molto sottoterra in qualche giardino che conosco solo io cosa bevi quando sei fuori a cena di solito acqua lo so non sono molto così acqua naturale però se vado a fare un appetito o una cosa così mi piace tantissimo il vino rosso il in particolare mi piace il Syrah il Nero Tavola che sono appunto i frutti della mia zona e poi mi piace anche un vino che è un mix tra questi due il Syrah il Nero Tavola che è buonissimo che lo fanno nella mia zona una diate particolari della mia zona ed è veramente molto 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 buono intanto comincio a sentire il profumo della candela e in quale salsa mangi i chicken mac nuggets di solito senza salsa perché cioè mi piacciono così da soli altrimenti il ketchup proprio se devo scegliere ma preferisco comunque senza qual è il tuo cibo preferito? il sushi assolutamente quali sono i film che potresti guardare e riguardare senza annoiarti allora direi quelli di Harry Potter tutta la saga proprio io adoro Harry Potter non c'è niente da fare un po' poi direi i passi dell'amore che è un film che ho visto tipo 3-8 volte ma mi piace sempre mi piace sempre tantissimo e poi non so se c'è una domanda non ma anche delle film si potrebbe parlare ecco di sex il di sex investiti che hanno un'omera questi giorni e il loop in continuazione il mother family new girl questi tutti l'ultima persona che hai baciato allora ho baciato in bocca il mio ragazzo mezzo o due giorni fa perché non ci vediamo da un po' di giorni e invece ieri ho baciato sulla guancia però il mio cuginetto piccolino di 8 mesi eh non solo un po' ovviamente ma più di uno e sei mai stata scout? no però mi sarebbe piaciuto poteresti mai nuda per una rivista non penso che lo farei per per vergogna perché poi mi vedrebbero tutti però non è una cosa di cui di cui mi scandalizza ecco se sia sul proprio agio sul proprio corpo e soprattutto se hai una una particolare appunto propensione per queste cose quindi no è libero di fare come vuole ecco io non lo farei però qual è stata l'ultima volta che hai scritto una lettera a mano su carta cioè proprio si parla di anni anni fa avevo anche un'amica di penna tanto tempo fa non so esattamente quanto sarà passato ma tanto tempo ah no pensandoci è stata una cosa più recente una lettera che però non ho spedito ecco io perché pensavo a questa una lettera che ho scritto per una mia amica penso qualche compleanno o qualcosa così qualche mia amica sì e sai cambiare l'olio ad un'auto? no? mai fatto quindi penso di non saperlo fare ecco mai preso una multa per eccesso di velocità? no è il tuo panino preferito il mio panino preferito direi molto classico prosciutto cotto e provolone se sono di quelli buoni eh altrimenti vabbè mi piacciono di tutti i tipi i panini anche tonno e pomodoro l'abbiamo fatto l'altro giorno buonissimo cosa più buona da mangiare a colazione ma una cosa che proprio mi sa di caso di tranquillità è il caffè perché non può mai mancare infatti ora ancora che non ho preso sono un po' metto addormentata e il caffè che non può mai mancare e poi le fette biscottate con un velo di burro e la marmellata di lamponi che è un po' cichina quindi non mi piacciono le cose troppo dolci a chi ora avevi letto di solito mezzanotte mezzanotte e mezzo sei pigra dipende sono molto volente rosa però se ci sono cose che non mi piace fare allora sono un po' pure però ho tanta forza di volontà quindi questa diciamo che combatte un po' la pigrizia quando eri piccola da cosa di vestiti per carnivale tantissimi vestiti ho avuto non c'è stato un periodo in cui vestivo da funghetto da cignola da cappuccetto rosso poi ci scambiavamo i vestiti con mia muggina di un anno in anni lei è più grande di me di due anni però ecco ce li scambiavamo qual è il tuo segnalo giocale cinese? l'avevo cercato ma in questo momento non me lo ricordo assolutamente quante lingue parli? l'italiano l'inglese non lo parlo benissimo ma diciamo che lo parlicchia il siciliano lo sconosco perché quando parla in siciliano mi prendo nel giro e allora evito di parlarla ne so qualche parolina di spagnolo e qualche parolina di francese ma conosce alle orate siamo in bello italiano quindi direi l'italiano e un po' di inglese e hai l'abbonamento a qualche rivista no? lego o playmobile non so cosa sono i playmobile quindi dico lego sei the start? si ma non troppo cioè se c'è una cosa che devo fare come voglio io la faccio conti che show americani segui? show peggio intendo anche tipo se tipo non lo so comunque come vabbè mother family girl ce ne sono tantissime ad esempio mi piace tanto anche come si chiama? quelli di cucina o quello che fa in giro per il mondo mangiare tutte le cose bizarre food mi pare che si chiama una cosa del genere com'è fatto tutti questi? com'è fatto il cibo mi piace tantissimo e mi ha eseguito la sua popera no? le ho sempre guadiate cioè proprio non riesco a capire l'utilità soffri di vertigini no? canti in macchina si? canti nella doccia si? balli in macchina si? hai mai usato una pistola? no? forse una di quelle fitte ho visto la vera cosa fotografia da un fotografo quando l'ultima volta ma tantissimo tempo fa forse è bello quando ho fatto la parte identica perchè per il passaporto ho fatto una di quelle mangliette quindi si può tanto tempo fa non lo so questo posso essere stato di 1-7 anni ti piacciono i musicals tantissimo li adoro l'ultimo che ho visto ho messo anche delle foto su instagram quindi era tutti insieme appassionatamente a Catania l'ho visto penso sia stato tutto mi ricordo è bellissimo secondo te è stressante il natale no? assolutamente io adoro il periodo di natale mio il periodo dell'anno che preferisco di più anche tutto il periodo prima già da da metà novembre e così verso il 10-15 novembre io ho già entro nella festa quindi tantissimo e mai mangiato un pierogi? no? non so cosa sono quando eri piccola cosa volevi diventare volevo fare la peniatra la fotografa la maestra questa cosa ti piacciono scusate credi nei fantasmi sì penso che ci siano delle delle entità ecco mai avuto un 10-15 più di uno prendi delle vitamine no? indossi le ciabatte sì certo quello che l'indosso indossi indossi a capatoia sì cosa indossi quando vai a dormire pensate un po' il pigiama e qual è stato il tuo primo concerto? allora penso che il mio primo concerto sia stato un concerto di Tiziano Ferro ma tipo anni fa forse avevo 11 anni non lo so, 12 anni che è venuto qui nella mia città e io impazzivo in quel periodo che iniziava al periodo 1912 quindi proprio tantissimo tempo fa e alidas o naik forse preferisco la naik cereali, citos, fritos non ho idea di cosa si chiama i citos i fritos i cereali preferisco i cornflakes quelli normali senza senza zucchero, senza niente se mi dici la zona forse se mi dici la zona mai sentito parlare dei gruppo toibia? no ho mai preso le geni di danza tantissime da tipo quando avevo 5 anni che ho fatto la danza riesci ad arricciare la lingua si, lo sto facendo ma non lo vedete ma è brutta da una ed è anche per questo che ho ottenuto delle api mai pianto dalla felicità? si possiedi dei vinili? no hai genitori del mio ragazzo? sì però io personalmente no hai un giratischi? no usi licensi profumati? no uso le candele profumate queste qua come la antina e l'antichetto e se sei mai stata innamorata? sì sono tuttora innamorata ecco c'è la stessa persona da 8 anni quindi sì chi vorresti vedere in concerto? no mi piacerebbe vedere in concerto un milano di persone ad esempio Beyoncé e Shakira Beyoncé e Shakira che ti serve mi piacerebbe vedere Lisa Giorgia e poi tantissimi altri Giorgia è bellissima ha qualche concerto anche qualche gruppo mi dispiacerebbe tipo i news li adoro e qual è stato l'ultimo concerto che hai visto? mi ricordo non sono l'ultima da concerto non sono quasi uno dei concerti di caldo freddo caldo d'inverno freddo d'estate caffè o te caffè sai nuotare bene? sì me la cavo suon nuotare riesci a trattenere il respiro senza dapparti il naso con le mani? sì certo sei una persona paziente? no veramente non tanto più di altre persone ma non tantissimo dj o band o un matrimonio direi una band di quelli che dico io tipo jazz cose così mai vinto un concorso? no ah no forse una volta sì era un concorso della Reblon ho vinto tipo un fototinta che tra l'altro non mi è piaciuto poco ti sei mai rifatta? no sai lavorare ma non ho nulla incontro che si rifà sai lavorare a maglia? no un tempo fa sapevo fare fare il punta croce che non è proprio lavorare a maglia ma sapevo fare anche con l'uncinetto le catenelle però poi cioè mi pare che ultimo dieci anni cose così è la stanza migliore per mettere un camionetto assolutamente il salotto il cosiddetto living room ma anche il soggiorno salotto questi posti qui poi vuoi sposarti in futuro sì quando eri al liceo perché avevi una cotta una cotta per un ragazzo no quella era alle medie al liceo ho avuto la cotta solo per un ragazzo no ma ero alle medie anche in quel caso forse avevo qualche cotta così ma poi sono fidanzata con il mio attuale ragazzo in seconda liceo quindi poi non ho avuto volte forse in prima liceo qualcuno non so i bambini vorreste camminissima non al momento in questo momento il più tanti possibile assolutamente colore preferito ce ne sono tanti non vi saprei dire un colore forse sapete una cosa magari poche ne so direi fucsia ma poi la vedo poi mi mistura quindi non vi saprei dire il colore perfetto forse il blu o il verde ecco il verde che ti manca in questo momento ma in questo momento proprio adesso mi manca il mio ragazzo perchè non lo vedo da un due o tre giorni e non ci sono abituata però e poi mi mancano bene le mie amiche che che non riusciamo a vederci spesso purtroppo neanche fuori fuori Italia al momento quindi ci vedremo ormai in ottobre quindi si un po' un po' le mie amiche perchè non è più forte ragazzo lo vedrò stasera domani ma quindi niente ragazzi io spero che questo video mi abbia un po' rilassato le domande sono state 90 per la fine e lo tacco molto carino io tacco tutte voi e chiunque di voi voglia fare questo video anche qualche ragazza che mi segue soprattutto sui quelli che fanno i video sbr secondo me è un'idea carina farlo in modo che sarebbe rilassato un po' per avere un po' di informazioni sull'altra persona e niente io adesso faccio colazione e sono le 8 e mezzo sono svegliata e tipo 6 e mezzo perchè è tutto ho preso un passaggio e quindi ho dovuto svegliarmi presto ora sono le 8 e mezzo faccio colazione anche se ho mangiato un yogurt prima ma adesso mi sta mell'amorando a morire perchè non ci sono abituata a svegliarmi così presto a mangiare alle 6 e mezzo e faccio colazione e poi mi preparo e vado in palestra perchè come tutti i giorni da tipo 2-3 mesi a questa parte mi alleno appunto tutti i giorni e accetto la tua vita perchè mi piace perchè mi fa sentire bene proprio fisicamente mi sento mi sento più energica ecco e niente io spero di non divertirvi a essere rilassato mi raccomando sottoscritti il canale che sia con le scritte anche e mi auguro che questa giornata o questa lute possa essere rilassata possa essere tranquilla per voi mi auguro che tutti i vostri avvisi possano realizzare e ancora fatemi sapere cosa ne pensate di questa ecologica e di cosa vi faccio vedere una cosa ecco è una sottoscritti per il fatto che mi stava sottoscritti come fa questo oggetto questo processenze perchè in questo momento sono appena sedio quindi sono proprio incondizionale mi sembrava il caso di farvi vedere la mia bella manca così per rilassare la mia profilazione quindi ciò vi lascio tutti che vi auguro una buona notte o una buona giornata ciao ciao